Salve a tutti, sono Mariana Loffredo, volontaria del Centro Studi Futura, sede di Caserta. È stato istituito il bando per la selezione di 46.891 volontari del servizio civile. Per partecipare alla selezione è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti. A. Cittadinanza italiana. B. Bisogna aver compiuto la maggiorità e non aver superato il ventottesimo anno di età. C. Non aver riportato condanna. Le domande di partecipazioni possono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del giorno 8 febbraio 2021. La selezione del candidato è effettuata dall'ente titolare del progetto scelto tramite apposite commissioni che avranno il compito di sottoporre il candidato ad un colloquio. Ciascun candidato idoneo o selezionato, accedendo alla riservata del sito del dipartimento attraverso SPID, scaricherà quello che è il contratto, dove saranno indicati la sede di assegnazione, la donna di inizio e di fine del progetto e le condizioni economiche. Il rapporto del servizio civile si estaurerà con la sottoscrizione di un contratto, in cui verranno specificate anche le norme di comportamento che il volontario dovrà seguire. Nel caso in cui il volontario non segua queste norme, verranno anche imposte delle sanzioni. Anche quest'anno il Centro Studi Futura sarà presente con quattro programmi articolati in 31 progetti diversi, con ben circa 1000 posti disponibili. Io, con i miei colleghi Emma, Rita e Andrea, vi consigliamo di cercare di far parte di uno di questi progetti, proprio per fare un'esperienza nuova e misurarsi con l'ambiente esterno e fare qualcosa per la propria comunità. Per ogni chiarimento, dubbi o informazioni qualunque a riguardo, non esitate a contattarci sulle nostre piattaforme social, Instagram e Facebook. Ciao a tutti!